Quando si vince, no? Siete tutti bravi, e l'abbiamo distrutti, e Ternandez di qui, e Leao di là, e Pioli l'ha preparata bene. Quando si perde, invece, è qua nascono i dibattiti, e allora facciamo un dibattito oggi, no? Facciamo questo dibattito di merda, facciamo questo dibattito. Allora, io spero veramente che Pioli non sia più allenatore del mio nel prossimo anno. Perché se io mi devo sorbire, questo, per tutto il campionato prossimo, io non so cosa possa succedere. Mancano tre giornate, per fortuna manca una partita di Champions League, per fortuna mancano quattro partite, teniamo duro, poi basta, poi basta. Io dico che in Champions League non ci voglio andare, perché a queste condizioni, in Champions League, non ci devi andare. Non ci devi andare. Non ci devi andare. Eh, però la colpa è di quello che non ti raccolta, ma li mandi in campo tu, lulido coglione giocatori. Le dai tu le istruzioni. Poi parliamo anche dei singoli, perché poi parleremo anche dei singoli. Parliamo un tanto dell'allenatore, che ha messo in campo una squadra che tra Empoli, Cremonese e Spezia ha fatto un gol e ne ha subiti tre. Vogliamo aumentare la conta? Inseriamo il Bologna, che il conto è 4 a 2. Inseriamo anche la Salernitana, il conto è 5 a 3. Ditemi voi, se Pioli a questo punto deve essere l'allenatore del Milano il prossimo anno. Perché non c'è nessuna squadra che segna così poco. Forse la Sampdoria è il segnale del Milano, che tra l'altro la incontriamo domenica la Sampdoria. E voglio vedere domenica la Sampdoria cosa fa. Perché la Sampdoria è giocare processa, verrà Milano, senza pretese, senza niente da dire, senza niente da dare. Giocherà con la testa libera da ogni cosa. Vorrà salutare la Serie in maniera dignitosa. Vedrete che partita che fa, la Sampdoria è domenica a San Siro. Come sempre, tutti gli anni c'è da regalare due punti, tre punti allo Spezia. Come sempre, non ti è servita un cazzo la lezione. Non ti è servita un cazzo. E due anni fa si perse come stasera. L'anno scorso quel furto di merda. Quest'anno cosa fai? peggioi la cosa. E che bello è che non hai fatto neanche il turnover. Perché non hai fatto neanche il turnover, a parte gli attaccanti. Non hai fatto neanche il turnover. Fai 450 passaggi a partita. E cosa succede? Perdi. Giustamente perdi. 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 Ci è voluta la Champions League di mercoledì sera per fare dire a Maldini che c'è da far mercato. Che c'è da far mercato. Quando gli si diceva quest'estate che ha preso un giocatore solo? Eh no. Però siamo a posto così. La squadra c'è. Track. A gennaio. Parigi a Lecce. Parigi con la Roma. Prendi 5 dal Sassuolo. Perdi la Supercoppa. Perdi 4 a 0 con Lazio. Non c'è bisogno di nessuno. Allora mi prendi per il culo. Arrivi. In semifinale di Champions League. Tanta bravura ma tanta fortuna. Perché se una delle tre italiane che sono andata avanti e hanno messo il peccato City era a Madrid, Dubai e Monaco non era semifinale italiana. Non era per nessuno. È andata bene che tutte le italiane hanno incontrato avversari modesti finora. Perdi 2 a 0 una semifinale di Champions League che li giochi dopo 15 anni. Che succede? La perdi. Perché giustamente la perdi. Eh. però dobbiamo fare mercato quest'estate. Ma davvero? No. Non ci avevo pensato sai. Non ci avevo pensato che bisogna fare mercato. Ma no. poi a me se mercoledì c'è la Champions League da cui siamo già stati eliminati perché mercoledì la partita sarà la partita più noiosa e forse anche più umiliante di tutta la stagione perché noi andremo lì anche finisca a 0 a 0 sarà umiliante lo stesso. tu al sessantesimo sullo 0 a 0 quando lo spezia sta cominciando a spingere mandi in campo ballo tu re il giocatore più handicappato della squadra tu con senso offesa agli handicappati tu lo mandi in campo mandi in campo ballo tu re che cosa fa sul calcio d'angolo di 1 a 0 sta così palle all'aria e il ricotero tanto mi sa che non c'è neanche piccolo quell'altro spuntano dietro prende il palo gli casca addosso e li butta in porta erano due lì due e Tomori Tomori a zona ballo tu re a Duomo così palle all'aria cazzo al vento e prende i gol il secondo gol è un calcio di punizione ci puoi far poco ci puoi far poco ma rimane il fottutissimo fatto che non combiniamo un cazzo che rimane il Monza l'unica squadra con cui si è fatto 6 punti in campionato perché se devo fare la lista ci siamo fino a domani e detto questo io Pioli non ti voglio vedere sulla panchia del Miel il prossimo anno al costo di andare a prendere non si sa chi io ragazzi vi giuro che a queste condizioni a queste condizioni il prossimo anno non ci sto io il prossimo anno non ci sto a queste condizioni non ci posso stare è vero che si dice e vabbè e fai conti con i giocatori che ha ma è possibile che se lo Spezia fa due gol al Milan che il giocatore più forte nel Milan andrebbe in tribuna farebbe il porta borracce con tutto rispetto tu con i giocatori che hai non gli leva neanche uno non è neanche la faccia come il culo di perdere due a uno allora non è i giocatori che hai perché se tu tra Cremonese Empoli Bologna Spezia Udinese fai tre punti non sono i giocatori che hai non sono i giocatori che hai bimbo mio non sono i giocatori che hai sono le qualità di merda che hai e qua mi rilaccio al discorso di partenza lo scudetto ripeto è facile giustificare Pioli eh ma ho vinto lo scudetto l'anno scorso Pioli non me ne faccio un cazzo non me ne faccio un cazzo dello scudetto di Pioli se quest'anno non si va a giocare la Champions League che io vi dirò anche ci si può sperare ma il 28 maggio tra due settimane c'è la Juventus tu vuoi giocare contro la Juventus così ripeto tu vuoi giocare contro la Juventus così no 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 non ci sto cioè se tu fai un punto a Torino proprio incornicialo il punto incornicialo incornicialo e questi sono i punti che poi quando arrivi in fondo alla stagione ti mancano perché ti mancano e non venitemi a dire eh ma anche lì Inter ha perso a Spezza me lo metto al culo me lo metto al culo che ha vinto e non ci ha vinto non lo volete capire basta di guardare gli altri basta di guardare gli altri basta di guardare gli altri quando vinci basta di guardare gli altri quando perdi basta Devi guardare Gli altri che devi guardare sono la squadra Contro cui stai giocando Quello Guardi gli altri Anche dicendo che ieri Ha pareggiato la Lazio Che oggi ha pareggiato l'Atalanta E tu ovviamente cosa fai? Un cazzo Fai una partita di merda Come sempre Come siamo abituati a questo 2023 Non vedo la dipende di questa maglia A prendere laggiù E andarmene a fare in culo insieme a Pioli